In Italia ci sono oltre 12 milioni di evasori fiscali. Io faccio bene 730, non faccio niente. In Italia sono 12 milioni di italiani che non pagano le tasse. Io sto apposto degli altri, ognuno pensa per sé. Ognuno pensa per sé, grazie. Non me ne intendo questa roba, gli pago tutto. Parliamo di evasione fiscale. Porca miseria! E che volete sapere da noi? In Italia oltre 12 milioni di italiani non versa ancora in posta. Ma questo non lo so, può anche darsi. Però io mi auguro che tutti pagano perché abbiamo bisogno che le tasse vengano pagate per avere i servizi. Poi se i servizi non ce li danno, peggio ancora. L'evasione fiscale è un problema per la contabilità, perché noi purtroppo artigiani siamo tutti cotti. Paghiamo il 70%, stavo a spiegare l'altro giorno. In realtà per fare una buona contabilità pagherebbe il 30%. Invece i piccoli artigiani vengono condannati a pagare. Senza lavoro pure, come si fa? Se qua non ci sta lavoro è normale che non si paga manco le cose, giustamente. Però purtroppo non ci fanno lavorare, quindi che dobbiamo fare? Eh, che chissà, chissà lo sa. In Italia sono 12 milioni di italiani che non pagano le tasse. Se lo pagassero tutto, se lo pagassero di meno. Io parlo un po' in italiano, francese, scusate. Io non credo, ci sta una buona parte, ma su quelli grossi, non sono questi signori che vendono la frutta, che fregano un euro. Poi c'è gente che fa lo scondrino e quindi là si può controllare. Gente che non fa mai lo scondrino perché sono liberi e non è giusto. O tutti o nessuno. Se vuoi vedere l'evasione ci sta, dai vade, cioè voglio dire, però bisogna andare ai grossi, perché ai piccolini, è più di quello che devono evade, è la fame. E vabbè, l'Italia è fatta che si fa pagare solo a quelli che pagano, non è che ci sia un governo, una cosa che fa pagare chi non paga. Qua se uno paga lo si fa pagare, quindi quanto si va, che c'è il dolce, c'è il miele, si va dove c'è, non si va a vedere chi deve pagare o non deve pagare. Va bene. Fanno bene? Sì. Non so che c'è di niente. Parliamo di tasse, pagamento. Eh, non pagiamo tanto di tasse, arrivederci. Che ci puoi fare? È così che funziona. Eh, mi viene una gravità questa. E' la realtà purtroppo. Beh, è un problema per tutti quanti, perché oggigiorno noi viviamo proprio per questo. Se ci sta un rientro allo Stato e noi abbiamo tutti i servizi, ma senza rientro dovessimo pagare tutti quanti. Se paghiamo tutti quanti le tasse, se paghiamo tutti quanti le tasse, paghiamo molto meno e stiamo bene tutti quanti. E che vedevo dire io? No, no, le tasse sono eccessivamente troppo. Allora io vorrei dire a questi signori del governo che un padre e una madre con 1300-1400 euro al mese, come fanno per pagare affitti? I figli che vanno alla scuola e tutt'altro. Ah, per l'universo, sì, sì, lo so. Parliamo di evasione fiscale. In Italia 12 milioni italiani non pagano le tasse. Io quello non lo faccio. Come testimone diceva, lo che è del governo è del governo. Il mio è mio. Dobbiamo collaborare perché loro fanno le strade, gli ospedali e abbiamo bisogno. Perciò dobbiamo pagare le tasse. Questo non ci interessa niente. Non parlavo perché non ci capisci niente. In Italia mancano gli ultimi dieci anni oltre mille miliardi di euro a discapito di pensionati e dipendenti che pagano le tasse direttamente sulla busta paga. Ma io non sono interessato. Però le tasse le paga. Ma chi paga? Chi non paga niente? Bisogna dirlo ai governi di sinistra perché loro sono stati fino ad ora. Ora non possiamo addossare le responsabilità a chi è appena arrivato. Grazie ai latri che ci governano. Tutto qui. Io sono di destra, pure io. Non è che posso dire... La Milona è un anno che c'è, no? E come mai è la colpa della Milona? Eh, non mica va bene così, eh. Nelle casse dello Stato mancano quasi mille miliardi di euro. Sicurati. E quando le recuperano? Cioè, no, no. Tanta gente proprio... Come si dice? Non le posso dire. Non le pagano. Eh, pareti non le pagano. Le nascondono, fanno finta che guadagnano poco. Un mese dopo... Te l'ho detto, purtroppo funziona così, la politica in Italia è sempre stata così e così sarà. Perché non si cambia, non so perché non si cambia. Le pagamo, e tanto è pure, perciò pure troppo. Tanto il suo governo serve solo dei fatti loro, non è che ci aiutano a noi. In Italia negli ultimi dieci anni mancano quasi mille miliardi di euro. E che vuoi? Di chi è la colpa? È nostra? Noi le pagamo le tasse. E poi i soldi che ci fanno non lo so. Eh, io che ci posso fare? Le pago. Quelle che arrivano pago. Quelle che non arrivano non pago. Perché ha paura, dice Caspi, il nome viene... Allora, quelli poveri pagano, quelli ricchi... Perché no, no, perché dopo mettono un avvocato, magari... E via, è finito. E come i padrono? Quelli che riescono a arrivare perché sono dritti, non perché sono subito. No, no, quelli che riescono a arrivare perché non vengono contro i padrono. Ma io penso... Allora, non penso che sia proprio così. È vero che sono sempre i dipendenti pensionati a pagare perché vengono subito presi alla fonte. Ma ci sta chi è vado e sono i grossi, non i piccoli, i poverini. E fanno bene. Però questo va a discapito di pensionati e dipendenti che loro invece le pagano le tasse. Purtroppo noi pagiamo le tasse, loro non le pagano. E va bene il governo così. E' una cosa bruttissima, bisogna pagare, bisogna pagare. Se si riceve bisogna pagare. Prego. Ma se pagassimo molto di meno, la gente stessa meglio. Così i padrono e per cui pagano i pensionati. Vabbè, come ho detto. Le casse dello Stato sono oramai mantenute da dipendenti e da pensionati. Ma questo è stato sempre così. Sono anni, sono secoli che è sempre così. I dipendenti e pensionati pagano. Che poi il pensionato non dovrebbe pagare una lira. Che sono soldi già investiti da parte dello Stato, messi da parte. Quindi per me è tutto uno schifo. Quelli che governano non è che pensano alle casse dello Stato. Quelli pensano a ficcare la mano nelle casse dello Stato. E quindi così è. Non c'è nessuno che vuole risanare le casse dello Stato. Quindi è inutile che noi ci stiamo a piangere addosso, che diciamo tutto così colà. Perché quando tu senti il telegiornale, quello che dicevano 50 anni fa, lo dicono pure adesso. Però quando tu hai detto che la volpe è andata alle galline, non è che dici, vabbè, chiudiamo lo spazio. No, dici da domani bisogna portare più galline perché c'è la volpe che se ne mangia il 70%. Questa è l'Italia nostra. Pagano le tasse, i dipendenti, i liberi professionisti, non pagano niente. E loro lo sanno, o no? Purtroppo è così, caro signore. E la vita. E vabbè, purtroppo che potremmo fare? Non ci potremmo fare niente. Ma se loro non pagano, pagano altri, quindi noi con i dipendenti le pensioni. Purtroppo sì. Come facciamo? E come facciamo? Senti, perché non ci sono i controlli? È un problema. È un problema, ma in Italia è tutto un problema. Finisce mo' sta canzone. I pensionati pagano troppe tasse. E gli soldi che ci davano sono pochi. Non arriviamo alla mesata e facciamo fatica a fare la spesa. E tutto qua poi ci arriva. E io non ne capisco, io non percepisco niente. Va bene. Che grazie a Dio lui ha una bella pensione. Non è che è una bella pensione, però ci manteniamo su quelle che c'è, ce la facciamo bastare. A me io le pago le tasse. Certo, a me non scappa niente. La pensione è quella e le tasse sono quelle. Non puoi fare niente. No, a me io non lo paghi, lo paga mio genere. Non lo paghi, perché non capisco niente pagare questa tasse. Addirittura. Questo io non ero informato di questo, comunque non è giusto che non si pagano le tasse. Le tasse si dovrebbero pagare, però dovrebbero essere più eque. Rispetto alla busta paga, uno dovrebbe pagare una certa somma. Noi giovani che dobbiamo dire, io ho quasi 40 anni, non ho trovato manco lavoro purtroppo. Vengono solo quando si deve fare le votazioni e basta. Il resto non ci chiamano proprio. Quindi purtroppo siamo così, in attesa di trovare lavoro. La pensione è a zero. Io ho pagato miliardi di tasse e pillo 700 euro al mese. Niente. Non ci campi. Devi mangiare il brodo con la forchetta. Però le tasse le ho dovuto pagare. Ho pagato sempre. Pur se ho fatto la fame, ho pagato sempre. Purtroppo la vita degli artigiani è condannata. Lavora e vende ora al giorno e non è pagato. Quando parliamo di evasione, andiamo a vedere pure il Medi in Cina e di riparutare il Medi in Italy, che sarebbe una grande cosa. Poiché l'Italia se la sono venduta tutti. O no? Non è stata sovvenduta. È così. Giusto, signor. Poi i comuni devono attuare il DURC. Vediamo, cominciamo a vedere chi è che paga le tasse. E quale potrebbe essere la soluzione? Che dovrebbero fare, secondo me, tassare anche lo scontriere delle sigarette, denunciarli e poi rimborsare tutti i soldi che uno versa. Perché io vado a comprare, tanto per dire, al meccanico, se fai da meccanico a fare una riparazione, 100-200 euro, non rimborso niente a nessuno. E loro magari mancano denunce di 200 euro, perché le fatture non le fanno. E tutto qui. I nostri interessi, chi li guarda? Per esempio a noi gli animali ci distruggono tutti i raccolti. Come dobbiamo fare? Perché questi signori del governo a fine mese non si tolgono 2.000 euro perché dicono questi se ne sono mangiati i cinghiali, questi li hanno distrutti i cinghiali. Perché non si tolgono? E allora dovrebbero pensare anche un po' al popolo, all'Italia, non solo agli interessi loro. Penso che sia così. Anziano, per esempio, dovesse ne prendere pure un po' di movimento di musica, cioè divertimento, perché sono anziani, sono vecchi, è dovate? Quindi usare le tasse anche per dare più servizi agli anziani? Eh, o no? Le dico pure le tasse per dare pure un po' di servizio di divertimento agli anziani, perché erano i moriti proprio così, chiuso dentro la casa, e non si facesse così, ci volesse qualcosa, no? E tutto qua. Grazie. Grazie.